cari amici o grandi notizie per i fans e amici dall'italia a marzo 2017 vero in sicilia a catania e in calabria alla mezza termine per fare telemasterclass e suonare un concerto per voi sarà bellissimo incantrarvi personalmente per parlare di musica di guitarra e di vita in questa masterclass vi spiegherò i miei segreti per capire e suonare musica avrete anche la possibilità di chiedermi tutto quello che avreste sempre voluto sapere la masterclass a catania si terrà il 6 e il 7 marzo e alla mezza termine il 9 e il 10 marzo 2017 ora la parte più più importante per fare questa masterclass in concerti ho bisogno della vostra partecipazione se volete milionare la vostra tecnica con la guitarra dovete prenotarvi per una di queste masterclass a catania o alla mezza termine solo se ci saranno abbastanza adizione le masterclass e concerti si potranno tenere per prenotarvi vi prego riscrivere a per la masterclass a catania maurizio punto agro chiocciola istruzioni punto it per la masterclass alle mezze termine animola trattino basso a strattino basso cult chiocciola tiscali punto it qui potrete sapere tutto sui termini e le condizioni spero di vedervi presto in italia ciao